Siete di Milano? Sì, sono di Milano. Dottor, voi non ci crederete, ma io quando vengo a prendere un cliente all'aeroporto, indovino subito da dove vieni. Per esempio, dico, questo è di Torino, e quello veramente è di Torino. Dici, ma come fai? Non lo so, è questione di vestiti. Dottor, è la prima volta che venite a Napoli? Sì, è la prima volta. Eh, peccato che c'è questo traffico, dottor. Perché Napoli è una città bellissima, e sono le automobili che l'hanno inguaiata. Napoli, dottor, è una città romantica, ricca di poesia. Voi conoscete a Salvatore di Giacomo, il massimo poeta napoletano. Quanto è bella, è la mia passione, dottor. Nobiana, forti notte sono lontanamente, e la musica si sente per l'aria suspirà. E l'aria suspirà, è l'una, dormo vita, un coppa, una nonna, nonna. E non lo dico, non lo so, anche di te, è viva! Ma non lo dico, non lo so, anche di te, è morto! Dio, quanta stella in gira, che luna, e cari a rocce, quanta una bella voce vorrei sentire cantare, ma solitaria e lenta, moro motivanti. Gnatale, dalle le gana!